Sembra esserci uno spireglio di luce per ciò che riguarda i contagi da Covid-19 in città e in provincia. Sono 384 i positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 30 ricoverati in malattie infettive, 3 in terapia intensiva per un totale di 417. Sono in tutto 32 i nuovi positivi in tutta la provincia nelle ultime 24 ore, dei quali soltanto 7 a Caltanissetta. Aumenta di qualcosa il numero dei ricoverati, in tutto i ricoverati sono 85 in tutta la provincia in malattie infettive, sono 13 invece i ricoverati in terapia intensiva. Sono 1512 invece in tutto i positivi in questo momento in provincia di Caltanissetta. Anche se i numeri sembrano essere propizi, l'arresta dei conti ci sarà tra una settimana perché si conteranno i danni, se ci sono stati, delle riunioni del 25 aprile e ancora se ci saranno quelle del primo maggio.